Il caro Bollette non perdona e colpisce indistintamente famiglie, aziende, attività sportive e ovviamente anche il Comune. Basti pensare che è già arrivato un milione di euro di Bollette che si riferisce ai mesi da marzo a giugno, una cifra enorme rispetto a quella che si era programmata. L'ente pensava di spendere un milione e 800 mila euro in un anno. Tant'è che lo stesso Comune, già a luglio, aveva fatto una variazione di bilancio per aumentare le somme a disposizione per utenze di luce e gas, 5 milioni di euro in più rispetto a 2021. C'è molta preoccupazione però per gli inquilini dei progetti case, spesso anziani, disabili o monoreddito. Servono delle misure sociali per il consigliere Paolo Romano che chiede anche l'eco-canone per gli inquilini ATAR che sono nel piano case e che pagano ad oggi un canone superiore quasi di 5 volte rispetto a quello che pagano gli stessi inquilini ATAR nel resto d'Abruzzo. Poi c'è necessità di comprendere se i pannelli fotovoltaci dei progetti case sono funzionanti e stanno producendo quel risparmio anche nelle bollette che il Comune aveva promesso agli inquilini. Pensate solamente che nel progetto case gli inquilini hanno ricevuto solamente la quota involontaria del gas vado a dire una componente fissa che pagano tutti ed è fino a giugno del 2021. A questo bisogna aggiungere i consumi effettivi del gas che ciascun inquilino ha giustamente consumato che non vengono mandati dal Comune dal 2018 creando non solo un buco all'interno del bilancio comunale a cui rischiano tutti gli altri cittadini poi di rimettere mano con le proprie risorse ma addirittura di creare un salasso vero a quegli inquilini perché adesso si manderà un bollettone a cui difficilmente e quasi con impossibilità riusciranno a pagare come chiederà il Comune. In questi anni c'è stato il bonus economico che ha dato una mano sulle bollettazioni per chi aveva un ISEE al di sotto dei 7 mila euro ma anche altre misure al di sotto dei 12 mila euro che vanno a vantaggio non solo dei canoni d'affitto ma di tutte queste bollettazioni che oggi sono realmente una crisi ed una questione di criticità per tutte quante le famiglie. Ecco gli strumenti ci sono, le risorse le abbiamo, c'è veramente necessità che anche il Comune e tutto il Comune in maniera sinergica possa rispondere a queste evidenze che chiaramente hanno i cittadini aquilani.